Almeno fino a domenica il primo posto del girone I di Serie D se lo godrà la frattese e questo è il verdetto del turno infrasettimanale giocatosi questo pomeriggio con i nero stellati che hanno travolto con un tennistico 6-0 una fragile Gelbison che ora deve guardarsi pure dal ritorno del fanalino di coda Lamezia che fa punti da tre turni consecutivi dopo un digiuno durato nove giornate. La Cavese quindi scende dal primo gradino del podio e aspetta il posticipo di questa sera tra Siracusa e Aversa Normanna per sapere se conserverà la seconda piazza. Lungo ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti si era detto per nulla preoccupato dal possibile sorpasso di alcune concorrenti. Vogliamo cercare di arrivare ai primi il 15 maggio quindi la classifica non ci sta dando assolutamente un peso. Siamo contenti di essere fino adesso la capolista ma non è assolutamente un problema stare a un punto o a due punti e continuare. Dove dobbiamo guardare in casa nostra? Secondo me oggi ho sentito l'intervista di un collega, anche lui ha ditato di dover vincere i campionati, ci non voglio perdere in casa degli altri. La cosa più logica è quella di pensare a noi. I risultati della tredicesima giornata impongono alla Cavese un pronto ritorno alla vittoria. Domenica al Simonetta Lamberti arriverà un lamezza rinato dopo i recenti acquisti, agguerrito e deciso a proseguire la striscia dei risultati positivi ma forse pure un po' fiaccato dal turno infrasettimanale o almeno è quello che si augurano gli aquilotti. La società di Patron Campitello intanto per favorire un maggior afflusso di pubblico ha deciso di abbassare di qualche euro i prezzi dei tagliandi, accogliendo così l'appello che da più domeniche arrivava dalle tribune dello stadio. Un gesto di attenzione apprezzato dalla tifoseria.